Ora vediamo come attivare una proprietà di Google Analytics 4, andando, diciamo, a integrarla poi in Google Tag Manager. Per cui abbiamo, diciamo, la nostra già proprietà in Google Analytics e la vogliamo convertire, per cui convertire in Google Analytics 4. Per cui passare da UA, come diciamo, identificativo dei versioni precedenti di Google Analytics, a GA4, per quanto riguarda Google Analytics 4, e andare poi a sfruttare tutte le nuove funzionalità di monitoraggio che Google Analytics 4 mette a disposizione. Per cui scegliamo una nostra proprietà, andiamo in Amministratore, esempio, vado a scegliermi una proprietà che ancora devo convertire, così ve la mostro in tempo reale. Ok, Amministratore, qui vediamo che la proprietà ha, diciamo, l'identificativo UA, dobbiamo fare l'esegui upgrade di Google Analytics 4. Se già abbiamo Google Analytics, già abbiamo, diciamo, convertito il tutto, possiamo scegliere una proprietà esistente, come ad esempio, chi inserisce già da adesso una nuova proprietà in Google Analytics, questa già è, diciamo, Google Analytics 4. Invece, chi già, diciamo, aveva tante proprietà da gestire, o una sola, in Google Analytics, può procedere alla conversione. Per cui, diciamo, nuove funzionalità e, diciamo, statistiche in tempo reale. Andiamo in Devo creare una nuova proprietà Google Analytics 4, inizia, poi attivare, diciamo, la raccolta dei dati utilizzando i tag esistenti, se ad esempio hai anche inserito già la proprietà in Tag Manager. Creiamo la proprietà. Andiamo in Installazione Tag. Abbiamo per qui il nostro tag, clicchiamo. E qui abbiamo gli identificativi, per cui l'ID di misurazione che ci deve, diciamo, che dobbiamo andare a configurare anche nel Tag Manager. Noi che possiamo anche non utilizzare il Tag Manager, ma configurare il tutto in Analytics, andando poi a convertire le, diciamo, statistiche dalla versione 3 alla versione 4. Vediamo prima in Tag Manager, per cui andiamo a copiare l'ID di misurazione. Andiamo nel Tag Manager. Qui andiamo in Tag. Creiamo un altro tag. In Configurazione Tag inseriamo Configurazione GA4, inseriamo l'Identificativo, qui scegliamo un titolo, ad esempio, posso anche non sceglierlo, inserisco, diciamo, quando vado a salvare aggiungo l'attivatore su tutte le pagine, salva ancora e mi dà già Google Analytics Configuratore di GA4, lo vado a salvare, e sto, diciamo, a posto, già così posso, diciamo, iniziare a monitorare, ma se voglio, ad esempio, anche convertire una proprietà, cioè, non voglio utilizzare, diciamo, Google Tag Manager, voglio utilizzare solo Analytics, non vado, diciamo, a inserire la misurazione nel Tag Manager, ma mi vado, diciamo, a convertire il tutto in Analytics. Ad esempio, vado a copiarmi, sembri di misurazione, qui, adesso non lo vedo più, ma, perché è tutto gestito dal Tag Manager, ma, se non avessi utilizzato il Tag Manager, sarei andato in Impostazioni di monitoraggio, poi, sarei andato, ad esempio, nel Tag, e, ehm, la sezione Tag, e avrei aggiunto l'identificativo di monitoraggio, che è, diciamo, proprio una... quando andiamo a creare, diciamo, a convertire il... la proprietà in GA4, vi sono due vie che possiamo seguire, se vogliamo monitorare tutto ancora in Analytics, seguiamo una via di guardante delle impostazioni di monitoraggio, se invece vogliamo inserire tutto in un Tag di Tag Manager, seguiamo, diciamo, questa... queste procedure, questa procedura che ti ho mostrato. Io sto gestendo il tutto nel Tag Manager, perché mi consente di avere più controllo rispetto a Analytics, controllo, diciamo, di attivazione, disattivazione, altre, diciamo, variabili avanzate, e tante altre, diciamo, forme avanzate di, ehm, di abbinamento, di attivatore variabili, per cui te lo suggerisco, suggerisco di iniziare a utilizzare il Tag Manager. Per cui abbiamo una proprietà GA4, possiamo andare a disattivare una proprietà esistente, mettiamola in pausa, ad esempio, e poi la cancelliamo, e, ehm, andiamo, per cui, a monitorare il tutto, per cui troviamo dei dati, proprio una nuova proprietà, qui, con un identificativo diverso, per cui, mentre prima avevamo, diciamo, UA, ehm, trattino, e i codici numerici, invece adesso abbiamo solo un codice numerico, per cui, quando passiamo, ad esempio, da un, ad esempio, un page, in, ehm, GA4, abbiamo, oltre, diciamo, altre, ehm, ehm, voci di altre sezioni, adesso ti mostro, diciamo, il passaggio da, un GA, ehm, diciamo, Google Analytics 3, che ha questa interfaccia, alla quattro, che ne ha invece quest'altra, ehm, per cui puoi, diciamo, iniziare a utilizzarlo. Anche se, diciamo, viene indicato la versione beta, come beta, ehm, io ti suggerisco già, fin da adesso, ehm, di, ehm, iniziare ad usare, e a, anche poi, comparare le, ehm, diverse prestazioni. Ti ringrazio, e ai prossimi tutorial. E ai prossimi tutorial. Grazie a tutti